Negli ultimi giorni i carabinieri del NAS di Salerno hanno predisposto un'intensa attività di controllo in diversi esercizi di somminastrazione di alimenti delle province di Salerno, Avellino e Benevento, con l'obiettivo di vigilare sul rispetto delle norme poste a tutela della salute dei cittadini. Tra gli interventi più significativi emerge quello effettuato in un ristorante e pizzeria della provincia di Salerno, nel quale i carabinieri del NAS hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa una tonnellata di carne congelata, priva delle indicazioni sulla tracciabilità. L'attività è inoltre stata immediatamente sospesa per gravi difformità e carenze igienico-sanitarie, rilevate unitamente a personale della competente AS. Inoltre, presso una mensa scolastica di un istituto comprensivo della provincia di Avellino, i carabinieri con il personale dell'AS hanno proceduto alla sospensione del laboratorio cucina con il deposito annesso, in quanto sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie. È costatata la difformità del titolo autorizzativo rispetto alla tipologia del servizio prestato.